Tutti a teatro, giovedì prossimo con la rassegna I martedì dell'Ambra. Accadrà di giovedì 9 maggio, una data significativa perché lo spettacolo è dedicato proprio a questa giornata storica, il 35esimo anniversario dall'omicidio di Aldo Moro. Chi ci sarà in scena e qual è l'idea dello spettacolo? Allora, in scena ci saranno gli attori della compagnia teatrale Dietro l'Arte, che sono attualmente Paolo Benucci, Lilli Bollino, Gianfranco Cereda e Francesco Mandia. L'idea di questo spettacolo è nata in realtà due anni fa, quando è stato proposto per la prima volta in un formato un po' diverso, solo come eri in teatrale, poi è stato trasformato in spettacolo teatrale vero e proprio e abbiamo pensato di proporlo quest'anno, come prima, al Teatro Ambra nell'ambito del cartellone della rassegna teatrale, perché quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro e ricorre esattamente il 9 maggio, quando lo spettacolo andrà in scena all'Ambra. Un tipo di rappresentazione molto impegnativa che si basa anche su documenti storici. Come si è lavorato prima di andare in scena? Sì, decisamente. Si è lavorato attingendo soprattutto e quasi esclusivamente a un libro che è scritto dall'Anna Laura Breghetti, dove viene raccontata la cronaca di questi 55 giorni dalla prigionia del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La parte, quello che noi riteniamo essere il punto di vista originale di tutta la commedia, di tutto lo spettacolo, è che è un punto di vista da parte dei brigatisti rossi. Quindi è un aspetto, una visione del tutto diversa da quella che fino adesso ci è stata prospettata, perché abbiamo sempre visto raccontata la prigionia o dal punto di vista prettamente giornalistico, dal punto di vista o dello Stato o degli organismi classici. Quindi questo è un aspetto sicuramente diverso. Noi impersonifichiamo i brigatisti, quindi io nella persona specifica sono il Mario Moretti, il Gianfranco Cereda è il Prospero Gallinari e Lili Bollino è l'Anna Laura Breghetti. Questo è quanto, insomma è stato un lavoro impegnativo che ci ha portato avanti per otto mesi, nove mesi di prove e speriamo bene giovedì. La parte di Aldo More invece è stata affidata a lei, ma in via come si è preparato a interpretare questo ruolo, carico di significati sociali, politici? Beh, è un ruolo sicuramente difficile, quello che è stato particolarmente difficile è il personaggio, che è un personaggio che in 55 giorni di prigionia non ha tirato un calcio alla porta, quindi è una persona molto mite, leggendo le lettere, perché ci saranno delle lettere scritte proprio da Moro, spesso viene tanta rabbia dentro, conoscendo la storia, sapendo quel che è successo, quindi restare calmi proprio come era Aldo More risulta quasi difficile per chi lo deve fare.